Musica 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 Il tuo nome è vicino al microfono Verena Ti sposi con? Andrea Un pregio di fetto di Andrea È buono? È disordinato? Quante volte a settimana fate l'amore? Dipende Cosa fai di bello nella vita? La mamma La mamma di? Cristian e Mattia Cristian e Mattia Ma a fine ci avete dato dentro già eh Ho sempre detto Ho sempre detto che l'aria di montagna è sempre la migliore Allora posso segnalare i nomi dei figli? Vai vai Ripetimili Cristian Cristian così riteniamo il video E Mattia Allora la mamma di Cristian e Mattia Mattia sì Ok Sì Andrea Andrea diciamo paga solo Andrea ci ha rovinato i tuoi figli per andare col matrimonio Lei proprio l'ha rovinato la vita Allora Verena Cosa fai nel tempo libero oltre a fare i figli? Li porto a spasso Li porti a spasso Ok perfetto Cioppi! Verena sei pronta a cantare? Prontissima Ok pronti Uno Due Tre Hanno ucciso Andrea dopo due figli Solita notte da lupi nel prossimo Le locale stanno suonando i blues negli soli Tu non si individua il balcone del bar Tieni di qui si è margarita Tutto ad un tratto la porta fa slam e poi c'è un'altra ricorsa con una novità Gritta sicura si morgarà che i canoni hanno fatto bene Hanno ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa Forse quelli della mano forse la pubblicità Hanno ucciso l'uomo ragno non si sa neanche perché Avrà fatto qualche scarra qualche strada di caffè Alla centrale della polizia Il commissario dice che volete che sia Perché è successo non ci fermerà Il crimine non vincerà Ma nelle strade c'è il panico ormai Nessuno esce in casa, nessuno ne è guai Chi ne ha la pelle, la calma e il tv Ma adesso mi si crede Con la voce Bonziano Hanno ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa Forse quelli della mano forse la pubblicità Hanno ucciso l'uomo ragno non si sa neanche perché Avrà fatto qualche scarra qualche strada di caffè Auguri per il reino La voce Cristiano e Mazzia Le strade si vedono gay I ragionieri proprio vento pieni di stress Se non ti vedono mi crederai Ma la voce Cristiano e Mazzia Ma la voce la pubblicità Hanno ucciso l'uomo ragno non si sa neanche perché Avrà fatto qualche scarra qualche strada di caffè Voi amore Voi amore Come stavi guaiato Voi amore Hanno ucciso l'uomo ragno, non si è stato, non si sa, forse è quelli della mara, forse è la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, hanno armato qualche scarra, qualche lustra di caffè. Applauso forte, caliente, lei, la mamma, ho detto applauso, forte l'applauso forte, la mamma di Cristian e Mattia! Grazie per la visione!